Tra le pagine del grande Bach, quella che per me è la più intima, luminosa e serena è il preludio corale Amato Gesù, noi siamo qui. Perché? Perché Bach prende la melodia di questo antico canto, la orna, la impreziosisce, la rende ancora più carica di energia e di intimità. Per quale motivo? Perché vuole descrivere l'esserci, lo stato d'animo della disponibilità. È l'atteggiamento del discepolo verso il maestro, della creatura verso il creatore e, dato che la scrittura dice che la gloria di Dio è l'uomo vivente, è l'atteggiamento della genuinità umana, della spontaneità, della disponibilità di tutto ciò che di nobile e puro possiamo trovare nell'uomo che si cura del prossimo che vive e che passa accanto a lui. La disponibilità all'ascolto, la disponibilità a ricevere un cuore che si apre, a ricevere delle lacrime che vengono versate, a ricevere la condivisione di un momento bello come di un momento brutto, la condivisione dell'esperienza, dell'amicizia, della fratellanza, dell'amore l'un per l'altro. Queste sono le cose più belle che nobilitano l'uomo. Bach lo sa e le trasforma in musica. Desidero con tutto il cuore dedicare questa mia semplicissima interpretazione di questa stupenda pagina di Bach a Tiago, mio studente al quale l'avventura della vita chiede non solo di cambiare scuola, ma proprio di cambiare la quotidianità trasferendosi in un'altra città. E insieme a lui, a tutti voi ragazzi. Perché proprio l'esperienza dell'amicizia, dell'avvicinanza, del confronto, del chiedere e dare aiuto, sia esperienza di quell'amore vero, di quell'amicizia vera, di quei valori belli che danno profumo, sapore e colore alla vita di ogni giorno, rendendola sempre un capolavoro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.